partiti in questo momento i cavalli della quarta dall'interno Quoterosa per cercare di sfruttare la situazione ponderale Yoshida che si posiziona in seconda poi in terza perché all'interno c'è Benny Flamingo al cui esterno anche il Lumacorno, poi Golden Pulse e Key Country questo è lo schieramento nella prima parte di gara con Quoterosa che l'ha presa Allegra e adesso ha due lunghezze di vantaggio rispetto al Lumacorno che agisce in seconda posizione all'esterno di Benny Flamingo poi Golden Pulse in quarta, in quinta c'è la favorita grigia Yoshida e poi Key Country che segue le orme di Golden Pulse siamo praticamente all'inizio della curva con Quoterosa già sostenuta a questo punto con la prima parte di gara piuttosto regolare in seconda posizione c'è il Lumacorno all'esterno di Benny Flamingo si fa sotto anche Yoshida a questo punto poi Golden Pulse che attende gli eventi stessa cosa che fa la giuba gialla di Key Country siamo praticamente in dirittura d'arrivo Quoterosa ancora in vantaggio messa sotto pressione da Benny Flamingo che tende a passare in vantaggio all'esterno c'è Lumacorno ancora più al centro della pista la grigia Yoshida che adesso deve cercare l'accelerazione Golden Pulse tra questi poi Key Country che deve cercare spazio molti con chance in questa fase con Lumacorno che dal centro della pista tende a passare in vantaggio nei confronti all'interno di Golden Pulse c'è ancora Benny Flamingo Vitale ma dall'esterno si è messa in marcia Yoshida che adesso va all'attacco dei primi con Golden Pulse che adesso è in vantaggio è attaccato al centro della pista da Yoshida Lumacorno anche Key Country tra questi con Golden Pulse ancora in vantaggio nella fase finale Golden Pulse contro Yoshida dai due vicinissimi bisogna andarla a rivedere un arrivo serratissimo che ha coinvolto 5 cavalli ma per la vittoria soprattutto tra due la lotta Golden Pulse che dall'interno è riuscito veramente a fare molto bene Yoshida si è gettata all'inseguimento poi all'esterno c'erano Key Country Lumacorno e poi Benny Flamingo quattro praticamente cavalli molto vicini a lottare per la vittoria diamo le battute finale qui ancora in vantaggio Golden Pulse all'esterno Yoshida forse ancora Golden Pulse ma dobbiamo attendere il verdetto del giudice d'arrivo comunque Golden Pulse, Yoshida, Key Country questi sono i primi tre insieme poi all'umacorno c'è materia dunque per il giudice d'arrivo qualora avesse vinto Golden Pulse la quota sarebbe di 4,86 qualora avesse vinto Yoshida la quota sarebbe di 2,56 ma bisogna chiaramente attendere stiamo rivedendo le battute finali di questo riuscitissimo handicap quattro cavalli su di una linea addirittura Benny Flamingo avrebbe potuto forse ottenere qualcosa di più ma a dir la verità un po' tutti comunque qui